Il Race in Bergamo è una squadra di Formula SAE nata all'interno dell'Università degli Studi di Bergamo da un progetto sviluppato due anni fa da me e altri due colleghi. Il nostro obiettivo è partecipare a questo campionato progettando, costruendo e chiaramente facendo gareggiare una monoposto elettrica. Attualmente il progetto conta 60 studenti, tutti con delle competenze trasversali fondamentali e che li accomunano. Soft skills come il lavoro in squadra, il time management e il team building che ci permettono di migliorarci sempre di più e affrontare le sfide che un domani ci renderanno studenti laureati più appetibili sul mondo del lavoro. Tutti gli studenti facendo parte al progetto hanno avuto occasione e hanno tuttora modo di collaborare con le più importanti aziende del tessuto imprenditoriale della Bergamasca. Tutto ciò perché un domani, al termine del loro percorso di studi, saranno sicuramente studenti più preparati, pronti e appetibili nel mondo del lavoro. Con aziende che già conoscono le potenzialità degli stessi.